Voi avete degli stili molto diversi in realtà. Avete in comune il fatto di essere romani entrambi, di aver fatto entrambi l'Accademia di Belle Arti, però Diamond ha uno stile ispirato all'Art Nouveau, allo stile Liberty, che se non sbaglio è di derivazione, cioè è un gusto che hai ereditato da tua mamma, giusto? Tu invece hai un immaginario più pop, che si basa sui supereroi, eccetera. A che punto si sono incontrati i vostri stili? Ma diciamo che è stata tutta una serie di fortunate coincidenze, però diciamo anche che la sua passione del fumetto si sposa anche con un aspetto del fumetto che io non avevo considerato in precedenza. C'è il primo fumetto della storia che è Little Nemo, che ha rappresentato tutto in stile Art Nouveau. E quando ho scoperto questa cosa, diciamo, sono un attimo, come dire, non ci ho creduto, perché avevamo trovato forse un trait d'union tra i nostri lavori che neanche noi conoscevamo. Certo! Grazie! Grazie!